Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Q&A Sunday, il primo dopo l'evento Apple in cui abbiamo assistito alla presentazione di iPad Pro da 9,7 pollici e di iPhone SE Le domande quindi andranno giocoforza anche su questi prodotti, quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito Allora ragazzi ben ritrovati, partiamo subito con la prima domanda che è molto interessante ed è di OctiPower TM Ciao Andrea, secondo te qual è la caratteristica che differenzia i prodotti Apple dagli altri? Inoltre secondo te qual è il miglior iPhone in rapporto qualità prezzo? Secondo me iPhone 5S, mi saluti mi chiamo Salvatore Francese, sei un grande, seguo tutti i tuoi video, ciao Salvatore Allora partiamo dall'ultima domanda perché poi ci colleghiamo magari alla seconda dopo Il miglior iPhone in rapporto qualità prezzo probabilmente quando tu hai fatto questa domanda In realtà l'hai fatta 7 ore fa, quindi io sto registrando dopo l'evento Apple Quindi mi dici che il miglior iPhone secondo te è il 5S? Beh secondo me ora è assolutamente l'SE perché con 509€ soltanto di listino, di partenza, non street price Prezzo ufficiale di Apple ti porti a casa un iPhone che ha la stessa dotazione tecnica di iPhone 6S A parte la fotocamera anteriore da 5 megapixel che qui è da 1.2 Il 3D Touch e il Touch ID di seconda generazione Poi lo schermo è soggettivo, a me può piacere lo schermo grande, a un altro può piacere quello medio, a un altro può piacere quello piccolo Quindi lì è un fattore soggettivo, però il rapporto qualità prezzo su iPhone SE secondo me è il migliore che ci sia mai stato Anzi direi ragazzi che è oggettivo perché un iPhone non è mai costato così poco Il prezzo più basso al lancio toccato dagli iPhone è stato quello dell'iPhone 5C nel 2013 di 619€ Adesso nel 2016 nasce invece un iPhone SE con stesso schermo dell'iPhone 5C all'epoca Ma non è un iPhone vecchio di un anno come caratteristiche tecniche ma è un iPhone super aggiornato E in linea con i prodotti che Apple ha attualmente in commercio, quindi veramente eccezionale E quindi 509€ tra l'altro è un prezzo decisamente più basso dei 619€ del 5C nel 2013 Quindi iPhone SE è sicuramente il migliore rapporto qualità prezzo per ora Cosa differenzia i prodotti Apple dagli altri? Beh, allora, nell'ultimo periodo chiaramente il software Android, Windows Phone sono cresciuti Quindi una volta il software poteva essere qualcosa di irraggiungibile Oggi questi sistemi operativi sono cresciuti Diciamo che secondo me ciò che differenzia i prodotti Apple dagli altri A parte il design, la cura e la costruzione di questi prodotti Non dimentichiamoci infatti cosa c'è dietro un prodotto Apple Non c'è soltanto la progettazione ma c'è anche tutta un'attenzione verso l'ambiente Verso i materiali, verso il riciclaggio anche dei materiali Verso insomma il preservare l'ambiente che Apple ha sottolineato proprio nell'evento di lunedì Quindi c'è tutto questo, c'è tanta filosofia dietro un prodotto Apple Chiaramente questo poi all'utente in mano non arriva Però se ci mettiamo un attimo a pensare sono ottime cose Ma direi che al momento a livello pratico ciò che differenzia un prodotto Apple da un altro È il parco di servizi che offre Apple In particolare iCloud e anche se a molti ancora non piace Ma iTunes ragazzi è un grandissimo programma per le sincronizzazioni Se avete un dispositivo Android dovete un attimo arrangiarvi con qualche altra soluzione meno lineare Mentre iTunes è comunque il software secondo me migliore per sincronizzare via cavo un prodotto Apple con un PC o con un Mac Poi c'è iCloud che è un qualcosa di ancora inarrivabile per molti Google in primis ha tantissimi servizi cloud che si sincronizzano insomma via cloud Ma non arriva secondo me ad iCloud Va bene in ogni caso questa era la mia risposta Poi questa domanda è molto divertente Andrew Hoffman lo sapevi che se ti rubano l'iPhone 6S te lo sbloccano in un secondo? Allora ragazzi ho fatto anche un video ironico su Facebook sulla mia pagina personale di Facebook È diventato virale non me l'aspettavo Perché? Perché su questo argomento era stato diffuso un video non dico fake ma forse fatto da una persona non competente E quindi molta gente c'è cascata Io ho voluto provare ho fatto un video simile ironico e tantissima gente c'è cascata Insomma se volete il video lo potete guardare appunto sulla mia pagina Facebook che si chiama come me La cercate la trovate in un secondo Magari vi farò vedere anche uno spezzone del video in questo Q&A Ma la cosa più anzi ora mi sono ricordato che dovevo registrarlo senza green screen Lo sto registrando con il green screen questo Q&A Sunday Vabbè ve lo tenete così Quindi il problema qual era e non è solo per gli iPhone 6s vale per tutti i dispositivi con Touch ID E non è un problema ora vi spiego il perché In quel video famoso la persona fa così Chiama Siri poi le dice una serie di cose inutili Dice apri l'orologio Ad esempio Vabbè ora mi ha risposto così Apri l'orologio E dalla schermata di blocco insomma si riesce ad entrare qui Ora vabbè non lo riesco a ripetere bene Bisogna partire col dispositivo bloccato allora proviamo Che ore sono? Ok arriva praticamente questa schermata Se noi premiamo qui Oh siamo nell'applicazione orologio ragazzi E e e se premiamo il tasto home Siamo nella schermata home senza aver messo il codice Apple 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 cosa fai Molta gente c'è cascata Molta gente che non sa cosa faccio Chi sono Sulla mia pagina Facebook anche c'è cascata in modo clamoroso Però appunto il problema è nato da Un tizio di un canale YouTube piuttosto seguito Che quindi immagino avrà una pagina Facebook piuttosto seguita Che ha pubblicato su Facebook questo video E ha fatto miliardi di visualizzazioni Il mio video ne ha fatte comunque 200.000 Però appunto non era il mio intento Non era quello di Far vedere un problema che non è Io volevo vedere quanto la gente potesse essere credulona E infatti come abbiamo visto Di creduloni ce ne sono tanti Insomma qual è la spiegazione? Se io richiamo Siri Premendo il tasto home Con un dito memorizzato nel touch ID Come questo su questo iPad E' chiaro che non mi chiede il codice Perché ha già riconosciuto l'impronta Se io faccio questa stessa operazione Con il mignolo che non ho memorizzato Che ore sono? Quando vado a premere qui Guardate cosa succede Ok si apre l'applicazione Ma se io poi premo il tasto Niente Non entra Di nuovo schermata di blocco Quindi nessun problema Antonio Terribile Che ne è l'aggiornamento Ad iOS 9.3 Ha portato la funzione Libreria file multimediale Presente in impostazioni privacy Potresti dare delucidazioni Non è nulla di che In sostanza è semplicemente La possibilità ora Per le applicazioni Di accedere alla libreria musicale Ad esempio Molte applicazioni sono state Impossibilitate All'accesso Soprattutto dopo l'arrivo di Apple Music Perché molti Anzi La totalità dei file Presenti su Apple Music Musicali Sono protetti da DRM Quindi le applicazioni Non possono accedere a questi file Utilizzarle Ad esempio La più banale È DJ L'applicazione che si usa Per mixare con l'iPad O con l'iPhone Bene Ora Tutti i brani Che uno può scaricare Da Apple Music Non possono essere usati Perché protetti da DRM Credo che questa funzione Andrà semplicemente A consentire l'accesso A queste app Ai file Scaricate da Apple Music DRM protected Ma appunto Che potranno essere aperti In altre applicazioni Nicola Cagliotto Secondo voi Mi conviene aggiornare iPhone S 6S Ad iOS 9.3 O meglio restare Ad iOS 9.2.1 Grazie Aggiorna pure Perché ti becchi Night Shift Che è una comodissima novità E a livello di performance Non cambia praticamente nulla Luca Notaro Che ne Non trovo Night Shift Su iPhone 5 Per caso Non è compatibile Esattamente così In tantissimi Dopo l'aggiornamento Mi avete scritto Andrea Come si attiva Night Shift Non lo trovo Night Shift Vi prendo anche l'iPhone Così Lo vediamo meglio Lo potete attivare O Dall'app impostazioni O in modo molto più semplice Dal centro di controllo Vedete Qui c'è il pulsantino Di Night Shift Al centro Se lo premete Lo schermo Avete visto Va sul giallo Potete anche da qui Impostare Di attivarlo Ad una determinata ora O meno Quindi lo attivate Comodamente Dal centro notifiche Ma se volete Anche dall'app Impostazioni Luca Spadaccini Ciao Andrea Possiamo sperare In una scheda SD No 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 Schede SD Su iPhone Non ci saranno mai Michele Faraldo Ciao Andrea Volevo sapere Un tuo parere Sulla funzione Riduci movimento Secondo te Questa funzione Attivandola Migliora realmente Le prestazioni degli iPhone Sul tuo L'hai attivata Perché il mio iPhone 6S Sembra più fluido Con questa funzione Disattivata Aspetta una tua risposta Grazie In anticipo Allora È una funzione Che teoricamente Velocizza gli iPhone Più lenti Velocizza Tutti gli iPhone Sulla carta Solo che l'iPhone 6S Non ne ha bisogno Difficilmente Con la funzione Disattivata Attiva più fluido Cioè Non dovrebbe cambiare Molto al massimo Però Appunto Mi sembra strano Che vada più fluido Con il disattiva movimento Io non ce l'ho attivata Perché infatti Se apro Un'app Qualsiasi C'è C'è La classica animazione Però sì Dovrebbe velocizzare Un pochino Gli iPhone Non più lenti Alfredo Burale Ma ora che è uscito E se lo comprerai E venderai il 6S Continua così Non lo so Non lo so Non lo so Diciamo che la tentazione C'è Vediamo un po' Come si mettono le cose Di sicuro L'ese lo proverò E lo recensirò Qui sul canale Di iPhone Italia E quindi Lo potrò toccare Comano E valuterò Effettivamente Se questo dispositivo Sarà così interessante Come mi sembra E quindi Se potrebbe farmi Ancora più gole Una volta che l'ho tenuto in mano Francesco Padalino Che cosa può spingere Un possessore Di iPhone 6 Che si trova bene Con le dimensioni Di questo dispositivo Ad acquistare Un iPhone SE Rispondimi a questa domanda Visto che non mi rispondi mai Ce l'hai fatta iPhone SE Non è un dispositivo Pensato Per chi ha un 6S Di sicuro Per chi ha un 6 Cosa lo può spingere Ad acquistare un SE Beh intanto Praticamente Il fatto di poter ottenere Un dispositivo potente Come l'iPhone 6S Quindi diciamo Che se uno ha l'iPhone 6 E lo schermo Gli va Fin troppo largo O comunque Ha difficoltà Ad utilizzarlo Si guadagna Uno schermo Più compatto E più facile Un telefono più facile Da tenere in mano E da utilizzare Con una mano E al tempo stesso Ottiene tutte le caratteristiche Tecniche dell'iPhone 6S O quasi 3D Touch Touch ID Di seconda generazione Fotocamera da 5 megapixel Anteriore esclusa Risparmiando Praticamente Sul prezzo di listino Ben 270 euro Rispetto all'iPhone 6S Quindi niente male Come risparmio Per avere le stesse caratteristiche Hardware In gran parte del 6S Roberto Mongeuzzo Ciao Andrea Ho un iPhone 4S Con iOS 9.3 Ho visto che su YouTube C'è un trucco Per rendere più veloce L'iPhone Secondo te può provocare Qualche danno No Non provoca nessun danno È un trucchetto Che ho fatto anch'io Oggi Prendo sempre l'iPhone Però è difficile Da farvelo vedere In pratica Bisogna andare In impostazioni Bisogna attivare Da generali Accessibilità Accessibilità Assistive Touch Attivare Questo quadratino qui Che qualcuno È qui nell'angolo E bisogna metterlo Proprio lì Nell'angolo Praticamente Dopodiché Bisogna aprire Spotlight E premere Quanto prima Qua Ora È già difficile Di suo farlo Ma farlo davanti Alla videocamera È difficilissimo Praticamente Richiamato Spotlight Come il pallino sale Vedete Che tende a salire È scomparso? No è qui Allora lo mettete Allora lo mettete qua sotto Fate questo Il pallino sale Nel momento stesso In cui sale Dovete premere qui Per far scomparire Spotlight Se lo fate Al momento giusto Provate 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 20-30 volte Si disattivano Si disattivano Le animazioni Solo che Vabbè Ora appunto Con la fotocamera Davanti L'ho fatto Ragazzi L'ho fatto È difficilissimo Ma l'ho fatto Quindi è un caso assurdo Ok Ho fatto il trucco Ho beccato Il momento giusto Adesso ad esempio Apro impostazioni Guardate Boom Si apre all'istante Chiudo impostazioni Boom Si chiude all'istante Non ci sono animazioni Multitasking Boom Aperto Boom Chiuso Praticamente Questo glitch Disattiva ogni genere Di animazione Su ogni applicazione Io vi faccio vedere Per motivi di privacy Sempre impostazioni Ma è uguale Insomma Per tutte le altre Va tutto più fluido Chiaro è che Il telefono diventa Un po' più bruttino Senza animazioni Però velocizza davvero tanto Il dispositivo Ad esempio Prendete gli ultimi Galaxy S7 Mi è caduto l'iPad Loro hanno Molte meno applicazioni Nel confronto Ad occhio Con iPhone 6S Sembra che l'iPhone Vada un po' peggio Beh se mettete Se fate questo glitch E disattivate Le animazioni Veramente Non c'è storia Io l'ho detto Nicolò Di Stefano Ciao Andrea Qualche giorno fa È stato rilasciato Il jailbreak Per iOS 9.1 Giusto ieri Dopo la conclusione Dell'evento È stata rilasciata La versione finale Di 9.3 Volevo sapere Secondo te È un'ipotetica Data di rilascio Del nuovo jailbreak Se lo renderanno Disponibile Prima su 9.2 9.2.1 E successivamente 9.3 Ok Non te lo so dire Non te lo so dire Perché gli hacker Non parlano molto Non lo so Non lo so Di sicuro Se arriverà Arriverà anche Cioè arriverà Per tutte le versioni Dal 9.2 In su Quindi incluso Il 9.3 Però non ti so dire Quando Potrebbe volerci Un mese Due mesi Un anno Una vita Un secolo E siamo arrivati All'ultima domanda Di questo Q&A Sunday Q&A Sunday Fonalino social Ti chiami Ora che hanno ridotto Le dimensioni Di iPad Pro Ha senso ancora Produrre iPad Nelle stesse dimensioni Penso ad iPad Air 3 Che uscirà fra poco Allora Si dice che comunque Apple produrrà Un iPad Air 3 E quello è il rumor Più condiviso Resta da capire Appunto come sarà Questo iPad Air 3 Come potrà evolversi Senza andare a pestare i piedi All'iPad Pro Mini Diciamo E chiaramente Differenziandosi un po' Dall'Air 2 E da capire L'altra corrente di pensiero Dice che Il nuovo iPad Pro Da 9.7 pollici Andrà a sostituire La serie Air Io non credo a questa teoria Però staremo a vedere A settembre Ottobre Potrebbe essere presentato Il nuovo iPad Air 3 Quindi vedremo insomma Come sarà E a quel punto Se Apple si incasinerà Totalmente Tra nomi E modelli simili O se riuscirà A trovare un senso A questa gamma Di iPad Che si allarga Sempre di più E io sinceramente Qualche dubbio Ce l'ho Soprattutto ora Dopo l'iPad Pro Da 9.7 pollici Sull'iPad Pro Da 12.9 pollici Su cui già avevo Molti dubbi Bene ragazzi Quindi grazie per le domande Grazie per aver guardato Il video fino alla fine Ora voglio sapere da voi Qual è stata la novità Annunciata all'evento Apple Che vi è piaciuta di più Fatemelo sapere nei commenti E nei commenti Fatemi anche le altre domande Per il prossimo Chioni Sandi Noi ci risentiamo Settimana prossima Ciao a tutti Da Andrea Cervone Per iPhoneItalia.com Buona fine domenica Buon inizio Per la prossima settimana Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti